Che partita è quella del Portelisa? Che cosa vi aspettate voi? No, vabbè, come abbiamo visto, sono sempre trasferte insidiose, però noi sappiamo quello che vogliamo, andiamo lì con la consapevolezza di fare risultato e basta. Visto che ci sono dei tabù da sfatare, uno l'avete fatto la scorsa fine settimana con il tutto cuoio, anche a Lucca, il Teramo, non è che abbia avuto sempre molta fortuna quando ci ha giocato? No, vabbè, comunque, come ho detto, sono trasferte sempre particolari, però comunque noi, come tutto cuoio, come abbiamo visto, abbiamo avuto sempre il palino del gioco. Loro si sono messi là dietro e aspettavano, diciamo, un nostro errore. Penso che comunque pure a Lucca sarà la stessa cosa, però noi dobbiamo essere più bravi negli ultimi 30-40 metri a sfruttare le occasioni che ci vengono date. Ecco, a proposito degli ultimi 30-40 metri, Teramo più coperto con questo nuovo assetto tattico, quindi si prendono meno gol, uno fino adesso, però si segna anche un po' meno? Sì, vabbè, sicuramente con il cambio di modulo ti abbassi di più e ti difendi di più. I numeri parlano, hai fatto meno gol e ne subiti di meno, quindi è normale che rischi di meno, però comunque da poche partite che facciamo questo modulo, quindi bisogna anche assimilarlo meglio. Una volta assimilato si può anche creare un po' di più. La filosofia dunque qual è? Quella di prendere un gol di meno dell'avversario piuttosto che segnarne uno di più? No, vabbè, sicuramente noi fin da ora abbiamo subito tanti gol, comunque siamo una fin da ora, abbiamo fatto con il modo che avevamo, eravamo un po' più offensivi, quindi sicuramente dobbiamo essere attenti a non prendere gol e cercare pure di sfruttare le occasioni. Ce la farete a Lucca a non far lamentare il presidente Campitelli di una mancata vittoria? Eh, lo speriamo, perché anche noi abbiamo bisogno di una vittoria, perché comunque vincere è sempre bello, come il presidente sappiamo che è uno che vuole vincere sempre, quindi speriamo di riuscire a farlo contento. La classifica però adesso è soddisfacente? No, vabbè, sicuramente siamo... C'è chi sta peggio, eh? Stiamo facendo un buon campionato, quindi dobbiamo essere felici di questo, bisogna solo continuare perché noi dobbiamo fare più punti possibili, quindi non ci accontentiamo affinché non raggiungeremo la salvezza.